I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal dottore Emanuele Crescenti, stanno dando esecuzione ad un provvedimento emesso dal GIP del locale tribunale, che dispone l'applicazione della misura cautelare patrimoniale del sequestro di somme di denaro, nonché di beni mobili e immobili, per un valore di oltre 320 mila euro, nei confronti del rappresentante legale di una società in capo al quale è stato ipotizzato il reato di omesso versamento di IVA. La misura ablativa disposta costituisce l'epilogo di un'indagine condotta dalla Compagnia di Palmi, che ha permesso di dimostrare allo stato del procedimento e fatte salve successive valutazioni in merito all'effettivo e definitivo accertamento delle responsabilità, come il citato legale rappresentante della predetta società, con sede in Palmi e operante nel settore dei trasporti su strada, abbia omesso il versamento di IVA dovuto per un importo complessivo pari a 328.412 euro. In particolare, l'indagine trae origine da un'attività ispettiva svolta dall'Agenzia delle Entrate ed ha permesso di ricostruire l'ammontare dell'IVA non versata dalla società per l'anno di imposta 2020. All'esito degli approfondimenti investigativi espletati, pertanto, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi, condividendo la proposta avanzata dalla Procura della Repubblica a quella sede, ha disposto il sequestro di denaro e di beni del valore corrispondente a quello dell'imposta non versata. Grazie a tutti.